allora oggi mi sono ritrovata a pensare una cosa stavo insomma questa settimana mentre ero in italia ho scritto e inviato un post per una collaborazione nuova insomma il secondo post quindi la seconda settimana di collaborazione ma ancora non ve ne avevo parlato comunque con alessia coppola e il suo blog vi lascerò sotto ogni informazione e intanto approfitto perché mentre ero a casa sono finalmente andata a recuperarmi il mio segnalibro di alice from wonderland quindi sono felicissima e adesso lo metterò tipo qua dietro così mi guarderà la nostra alice cappelluta e stavo scrivendo un post e per questo insomma su questo suo blog e mi ha domandato di fare un post a settimana con i top e i flop della settimana anche oggi in effetti devo scrivere un post appunto su questo soggetto perché domani si cambia già settimana la prima settimana di maggio e maggio è un mese pienissimo di uscite mentre stavo scrivendo quello per la settimana scorsa sono incappata in un libro che io ho messo nei flop a scatola chiusa sono capitata su un libro di sofia viscardi chi non conosce sofia viscardi insomma un po strano magari perché è una youtuber perché ormai è un po per virgolette una zoella de no artri praticamente una zoella nostrana il cui nome è stato preso come dire è utilizzato come marchio per far vendere libri allora mi ero mi ero un attimo bloccata su questo post in effetti perché nel pezzo in effetti finale avevo fatto una considerazione su questo tipo di editoria e avevo aggiunto che comunque c'erano in ogni caso scrittori parecchio più meritevoli che avrebbero comunque avuto secondo me come dire la possibilità per quanto riguarda le loro capacità di scrittore proprio in sé di poter pubblicare perché in effetti io non credo che una diciassettenne che viene da youtube abbia gran che da raccontare a meno che non sia veramente come dire una star da quando aveva due anni non che non abbia avuto una vita molto strana molto particolare e tutto ciò mi ha portato ad una riflessione ancora più grande è il ma dove stiamo andando ma cosa cosa sta succedendo mica cioè io parlerò del punto di vista editoriale dal punto di vista libroso e libresco perché è quello che mi compete o che ho deciso che mi compete e non parlerò in generale però sono parecchio scoraggiata dalle generazioni attuali per quanto riguarda sempre l'editoria altra cosa che mi è balzata all'occhio sono andata mentre ero in Italia ovviamente a fare un giro in libreria anzi ne ho fatte tre di libreria quindi vabbè lasciamo perdere però comunque a fare un giro in libreria e in tutte le zone dove di solito si trovavano insomma quelli che noi chiamiamo gli young adult che siano fantasy che siano che ne so che siano e non mi viene che siano romance e basta che siano un mix e quant'altro nel posto dove prima c'erano solo questi adesso ci sono tutti i libri di gente che io dico ma chi cazzo sei da dove vieni fuori che cazzo sono Benji e Fede chi è Favij ma chi è e la Cleo Toms scusatemi e manca soltanto che adesso la Greta Men come si chiama Menchi come la gelateria no Menchi si mette a scrivere un libro anche lei e poi abbiamo fatto l'unplane perché sinceramente ci sono tutti ogni pseudo star web star ha scritto un libro o un phantom writer lo ha scritto per lui e non è che hanno pubblicato o autopubblicato o sono usciti con mini case editrici no sono Sterling e Kafter sono la D'Agostini sono la Mondadori ragazzi la Mondadori la Mondadori adesso manca solo che lei in Audi si metta a fare una cosa del genere e poi siamo allo scatafascio cioè che oltretutto questi libri si fanno pagare perché non è che costano 10 euro ce ne sono che costano 15 16 sono tutti va bene copertina morbida però non è neanche questo il punto è veramente il ma dove cazzo stiamo andando perdonatemi il francesismo ma io ci sono rimasta veramente di stucco è una cosa che non mi compete è una cosa che non mi interessa neanche fare polemica però mi ci sono trovata davanti e ho trovato uno scoglio perché non volevo come dire non volevo in questo mio post che ho fatto per Ale trovare insomma motivo di è un po' complicato anche da dire volevo evitare che Ale si sentisse in difficoltà una volta che io avevo iniziato questa mia mini polemica sull'editoria italiana attuale e sinceramente adesso come adesso mi sono detta che forse era meglio però poi glielo ho anche insomma glielo ho proposto che facessi un video più o meno chiacchiericcio sull'argomento perché in effetti non volevo si trovasse in difficoltà insomma sembrava una che se la cantava da sola in un insomma in un post del suo blog in effetti no perché io ho conosciuto in questi mesi da quando sono su youtube ho conosciuto degli scrittori veramente meritevoli che stanno facendo una gavetta impressionante e che hanno veramente delle opere varie cioè potrei citarvene anche alcuni Benedetta Cipriano la stessa Alessia Coppola che sinceramente Alice from Wonderland Alice Through the Looking Glass che sta per uscire e di cui probabilmente riuscirò a farvi anche una recensione in anteprima prima della uscita e lo spin off Blue Dream e tutte le storie che ha scritto il fantasy che ha scritto adesso sta per uscire con la Harper Collins ragazzi cioè è una cioè sta diventando matta per riuscire a fare il lavoro dei suoi sogni e riuscire a fare quello che le piace fare poi che non so ne so Gabriele Dolzadelli ha scritto una trilogia spettacolare sui pirati una trilogia d'avventura una trilogia di mistero molto bella molto ben scritta molto interessante e poi Miriam Ciraolo anche soltanto lei è un il suo libro insomma è un pochino più conosciuto forse di alcuni altri almeno nel mondo di booktube insomma italiano però anche lei se vedete non ha una casa editrice alle spalle e poi ve ne potrei citare degli altri perché negli ultimi tempi sono in contatto con altri scrittori emergenti e sinceramente io mi domando perché cioè quella gente che sta nella casa editrice e fa l'editore insomma colui che prende il manoscritto lo legge lo valuta e poi dopo dice sì e no chi è da dove viene cosa ha studiato no perché a questo punto secondo me sono ragazzini di 15 anni nel momento clou dell'ormone che vedono due con i capelli un po' sparati così il pantalone e baggy fino a mezzo ginocchio e dicono mio dio deve scrivere un libro il suo libro è bellissimo cioè io non lo so io ci sto rimanendo proprio male io non sono una da polemica però mi sono trovata in difficoltà per la prima volta nella mia esistenza nell'esprimere un'opinione perché non avrei magari voluto mettere in difficoltà Ale e poi dopo mi si è sviluppata tutta questa riflessione polemicissima chissima chissima direi chissima non so neanche più parlare però fa lo stesso che mi ha lasciato veramente male con un filo di disgusto latente che io sinceramente credo si possa evitare con certi tipi di libri con certi tipi di uscite con qualcuno che abbia un po' di cervello e che sappia riconoscere un minimo la qualità di un manoscritto rispetto ad un altro d'accordo che magari poi vende perché ci sono come ho detto insomma le adolescenti con l'ormone in circolo che magari comprano anche questi libri però io credo sia alquanto triste quindi non sono solita fare polemica non mi piace fare polemica non lo farò molto spesso su questo canale anzi forse praticamente mai però questa cosa mi sentivo di domandarla secondo voi perché stanno facendo una cosa del genere cioè dove vogliono andare a parare perché ci sarà pur una motivazione più o meno logica per uscite di certo genere che sia soltanto per il vendere che sia soltanto per che ne so far conoscere un personaggino che se no sarebbe rimasto lì tutto da sola su youtube o magari con i suoi centomila iscritti su youtube ma niente di più vuol farlo diventare un marchio hanno dei buoni agenti perché io credo che la cleotoms abbia anche un agente che agente mai può avere vabbè che bisogno comunque per il momento è tutto e ora mi metto a girare le letture del mese perché devo ok perché anche sono poche e voglio ricominciare questo mese di maggio da zero perché è stato un mese disastroso quindi ci vediamo presto con un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti